Ciao a tutti, conquisterò una donna dell'ariete? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e andiamo un po' a vedere. Allora, tra le tante carte a disposizione ne scelgo 4 casuali, la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, donna dell'ariete, pensa alla donna dell'ariete, prenditi tutto il tempo necessario, puoi anche stoppare il video e puoi farlo ripartire, dopodiché scegli la carta 1 o la carta 2 o la carta 3 o la carta 4. Perché hai scelto la carta 1? Sei troppo con la testa tra le nuvole per riuscire a conquistarla, la riete è un segno appassionale, ha bisogno di un uomo più deciso, non riuscirai. Carta 2, la giustizia è dalla tua parte, quindi facendo le cose giuste riuscirai. Carta 3, l'innamorato. In questo momento non è coinvolta con te questa persona, quindi devi cambiare anche qua un po' i comportamenti per riuscire a ottenere dei risultati più positivi. Carta 4, la forza. Anche qua devi sviluppare più forza interiore per poterla conquistare. L'ariete è una persona appassionale. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!